Se la vita è dura, soprattutto se sei uno zombie carnivoro, ecco perché abbiamo pensato a delle ricette per cui gli zombie vanno matti. Voglio cibo. Adesso. Questo è cibo? Ehm, schifoso cibo senza glutine. Ma sangue nulla? Stai bene? Devo mangiare adesso. Non so. Ci credo che stai così, aspetta. Sì, ti piacciono? Non mordermi, ok? Ok, ok. Che ne pensi di questi? Qualcosa di salato? Ok, ok, smettila. Questi piacciono a tutti, su. Ah, mi prendi in giro? Ce la sto mettendo tutta, ok? Ma certo! Come ho fatto a non pensarci prima? Mettiamo un po' di latte nella ciotola e un po' di gelatina. Mescoliamo per bene. Fatto questo, aggiungiamo colorante rosa e marrone. Mettiamolo in un bicchiere con l'imbuto. Sarà più ordinato. Mettiamoci delle cannucce. E via in frigo! Adesso la parte migliore. Distruggiamo tutto! E mettiamo le briciole dentro il piatto. Ti ricordi le cannucce? Adesso sono vermi commestibili! Sembrano veri, vero? Oh, Lizzie, hai ancora fame? Ah, vermi! Sono ancora vivi! Mmm, ricoperti di terriccio! Gustosi, vero? Oggi niente forchetta, immagino. Wow, che boccone! Ci hai davvero azzeccato, Tina! Ehi, rilassati, ho il biglietto! Goditi il film! Ehi, ciao! Siamo in due! No, niente dolci. Non sono io a fare le regole. Non potete portarli dentro. Che c'è? Ok, tieni qua. Ci serve solo una mano in più. Ah! Ma dove l'hai presa? È finta! Geniale! Ci entreranno tutti i dolci? Vediamo se sono bene incastrate. Si tangono bene, vero? Adesso la incastriamo sul braccio. Bellissimo! Sarò credibile, fidati! Ehi! Vuoi che funzioni, giusto? Possiamo entrare ora? Sì, ok. Non avete snack, giusto? Meglio che non nascondiate nulla. Oddio! Ma che storia è questa? Grazie, tizio della sicurezza! Ok, credo di averla risolta. Sì! Ti sei bloccata, Lizzie? Smettila di masticare la perna. Non ci riesci proprio, vero? Un po' di energia ti farà bene. È cibo per la mente! Mente, cervello? Sì, e? Delizioso! Forza, risposta, vieni a me! Non lo so. Ancora nulla, eh? Meglio qualcosa di più sano. Ho quasi la risposta! Forza! Il tuo cibo non vale niente! Ah, sì? So io che ci vuole. Dov'è quella roba? Ho una cosa che ti piacerà. Bingo! È fresco fresco! Sta già funzionando, lo sento! Vogliamo fare un cervello? Prendi il mastice per dolci e facci una palla. Poi prendi uno stuzzicadenti e fai un solco al centro. Attacca un pezzo ondulato tipo questo su una delle due metà. Poi fai lo stesso dall'altro lato. Sembra proprio un cervello. Sono il genio degli snack per zombie. Adesso la sai? Dai un'occhiata! Sono una chef, non una maga. Tutti sanno che uno zombie affamato è uno zombie triste. Che colore è? Se non è rosso sangue non lo voglio. Sta guardando? Divertiamoci! C'è un bello scherzo in arrivo. Sta tornando! Non mangiare troppo veloce, ok? Non se lo immagina proprio. Buon appetito! C'è il pepe? Ah, credo che... Dai! Lizzy! È il tuo occhio! Quanto hai starnutito forte! È solo un'occhiotina. Vieni qui, piccolo. Com'è scivoloso. Odio quando mi escono gli occhi. E tu? Oddio! Che odorino! Ti sei mangiata un occhio! Vuoi fare anche tu questo scherzo? Taglia un uovo sodo a metà. Usa uno di questi per fare un buco. Così ci sarà spazio per l'oliva verde. Metticela dentro e usa una cannuccia per tagliare un pezzo di oliva nera. Poi mettila qui. Usa un pennello e del colorante alimentare rosso per la parte interna. Dopo averne fatti due, usa la gelatina per coprirli. Li vuoi appiccicosi, no? Sono pronti! Vuoi sapere una cosa divertente? Assomigliano ai miei. Cosa? Era uno scherzetto per te. Provalo! Ok. Non è niente male. Possiamo farne altri due? Hai mai visto una smorfia così? Sei lo zombie più divertente del mondo. Cibo! Bellissimi marshmallow per una bellissima donna. Sono fatti in casa? Solo il meglio per lei, signorina. E questo? Tina, ti ricordi la mia smorfia? Da quando sono io il terzo incomodo? Voglio di nuovo la sua attenzione. Almeno ho questi da mangiare. Ehi, so cosa fare. La zombie si sta ingegnando. Sì, manca poco e ho finito. Il mio condimento preferito. Diamoci dentro. Oss al sangue, ne volete? Guarda che osso, Tina. La tua amica ha qualcosa che non va. Chi? Io? Ne ho altre. Perlomeno ho la loro attenzione. Hai improvvisamente voglia di snack da zombie? Come Biasi Marty. Condividi il video con gli amici per farli provare anche a loro.